Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovissimo video, io sono Arei Koki e Arei Koki a parlare di Genshin Impact, in particolar modo di una delle meccaniche forse meno conosciute fra i neofiti e non appunto di questo bellissimo gioco ossia l'inner cooldown, il cooldown interno di fatto questo cooldown riguarda in particolar modo le reazioni elementali nel senso che è il cooldown che alla fine non ci permette di andare ad innestare una reazione elementare ad ogni colpo perché se fosse così personaggi velocissimi come per esempio io e Miglia sarebbero sicuramente sbroccati perché andrebbero a fare decisamente troppo male, una reazione elementare ad ogni colpo essendo così veloce fa danni assolutamente abominevoli di fatto però non riguarda proprio la reazione elementare ma riguarda l'applicazione con un elemento quando per esempio vedremo l'iconcina dell'elemento sopra la sua testa vuol dire che l'elemento è stata applicata quindi nello specifico questo cooldown riguarda proprio l'applicazione dell'elemento sul nemico non riguarda proprio la reazione elementare in sé anche se di fatto appunto applicare ovviamente l'elemento poi ci permette di scatenare la reazione quindi diciamo che sono cose comunque che vanno più o meno a pari passo diciamo che questo cooldown ha delle regole ben precise due regole poi comunque appunto ogni personaggio segue le sue regolentine, le sue cosine ma di fatto ci sono due regole a linea generale che possiamo andare a seguire la regola dei tre colpi e la regola dei 2.5 secondi di fatto queste regole vanno a pari passo nel senso che allora è abbastanza complesso da spiegare ma della verità è più facile di quel che sembri prendiamo per esempio un personaggio come Yomiya arciere, velocissimo, lo conosciamo ormai in tanti così appunto ha un riferimento di fatto nel momento in cui andrà ad infondere l'arma lei andrà ad applicare secondo la regola dei tre colpi appunto l'elemento dei nemici ogni tre colpi quindi primo colpo andrà ad applicare l'aura elementare secondo il terzo no, il quarto sì il quinto e il sesto no, il settimo sì questa è la regola dei tre colpi quindi ogni tre colpi applicate l'aura elementare e su questo non c'è dubbio punto poi c'è la regola di 2.5 secondi semplicemente dopo 2.5 secondi andremo ad applicare l'aura elementare punto quindi non è sempre necessario che effettivamente questa sequenza di tre colpi vada a segno nel senso basta aspettare anche 2.5 secondi e andremo a riapplicare l'aura elementare di fatto di fatto la cosa interessante è che la regola dei tre colpi non andrà minimamente intaccare quella di 2.5 secondi quindi ogni tre colpi lui semplicemente va a riapplicare ma il cooldown continua cioè non si va a resettare dopo che andremo a fare tre colpi ed è il motivo per il quale effettivamente per esempio Yomiya farà se continua ovviamente a colpire a ripetizione quindi calcoliamo che non si deve mai fermare andrà ad applicare l'aura elementare al primo colpo il secondo e il terzo no il quarto sì il quinto e il sesto no il settimo sì e poi si ritorna al primo e quindi non si fanno gli altri due proprio perché dopo il settimo colpo sono passati esattamente 2.5 secondi se si fanno le cose ovviamente correttamente e quindi si ricomincia ovviamente il giro dei tre colpi quindi ovviamente appunto se avete capito la regola dei tre colpi non va a resettare il cooldown dei 2.5 secondi mentre invece ragazzi la regola dei 2.5 secondi va a resettare la regola dei tre colpi di fatto ritorna indietro e dovete ricominciare la regola dei tre colpi quindi la regola dei tre colpi non va a resettare quella dei 2.5 secondi mentre la regola dei 2.5 secondi va a resettare la regola dei tre colpi Spero che abbiate un po' capito, alla fine è più facile di quanto sembri Queste sono le due regole principali secondo i quali appunto si può andare ad applicare un aura elementare sul nemico Poi ovviamente ci sono tanti casi specifici, in particolar modo magari ve ne andrò a dire qualcuno Secondo i quali appunto in alcuni casi si può applicare sempre l'elemento, comunque questo cooldown è minore eccetera eccetera Ovviamente ciò che vale per Yomiya non vale per tutti perché ovviamente io vi ho detto questa regola qui 1, 2, 3, 1, 2, 3, cioè ogni 3 colpi andremo a colpire effettivamente il nemico Ma ovviamente mentre Yomiya nell'arco appunto dei 7 colpi ci mette 2.5 secondi Ci sono tanti altri personaggi che sono molto più lenti e quindi ovviamente la sequenza sarà differente Magari non farà ogni 7 colpi poi si ricomincia il ciclo ma magari è differente Dipende ovviamente tutto dalla velocità di attacco Ricordatevi appunto del reset, di come si resettano effettivamente le due regole, di come funzionano Se andremo a vedere per esempio un personaggio come Diluc, lui andrà ad applicare l'elemento volta che andrà a colpire con la sua elemental skill Quindi ad ogni colpo di elemental skill lui potrà andare ad applicare l'elemento, cosa che tanti altri personaggi per esempio non possono fare Quindi i tre colpi dell'elemento skill andranno tutti e tre a procare una reazione elementale se si è fatto bene ovviamente Però quando riguarda la sua ulti seguirà la regola dei 5 colpi Quindi di fatto la ulti fa tantissimi colpi, non so se avete visto, a ripetizione, papapapapa Quindi se ad ogni colpo facesse una reazione la sua ulti sarebbe sbroccata Semplicemente lui fa tanti tanti danni e quindi arrivare ai 5 colpi ci arriva senza problemi Tutti coloro che utilizzano per esempio la lancia, per quanto riguarda i colpi caricati, il cooldown sarà differente Non sarà di 2.5 secondi, bensì di 0.5 secondi Quindi se andiamo per esempio a vedere un personaggio come Utao che andrà a fare il colpo caricato E ci metterà forse anche più di 0.5 secondi mi pare, perché comunque l'animazione ci mette un po' a fare Di fatto potrà praticamente andare a proccare Melt e Vaporize ad ogni colpo caricato Ovviamente se è fatto bene Il Pyro Nedo di Shanling non ha cooldown interno Motivo per il quale ogni colpo di Shanling andrà ad applicare Motivo per il quale di fatto Shanling è decisamente OP per riuscire ad applicare l'elemento Pyro Perché una ulti che non ha cooldown interno, tantissima roba O per esempio se prendiamo il colpo caricato di Ganyu al secondo stadio Lei andrà a proccare sempre Melt eccetera Perché lei di fatto andrà sempre ad applicare l'elemento col colpo caricato di secondo livello Ecco perché Ganyu è talmente tanto OP Non ha cooldown interno col secondo livello di colpo caricato Per quanto riguarda per esempio la ulti di 20 Ogni volta che andrà ad applicare la Nemo lui avrà un cooldown interno di 1 secondo Quindi ogni 1 secondo la sua ulti andrà ad applicare a Nemo Per quanto riguarda i Plunge Attack Tutti i Plunge Attack di fatto non hanno teoricamente cooldown interno Quindi se andiamo a prendere per esempio Shao con la sua ulti Lui può andare ad applicare a Nemo ogni volta che fa il suo Plunge Ovviamente la stessa regola vale anche per Kazuha E quindi ogni Elemental Skill andrà ad applicare l'elemento Ulteriore motivo per il quale è veramente fiero Per quanto riguarda l'abilità Elementale di Fischl Quindi Odds Odds seguirà la regola dei 4 colpi Non quella dei 3 Quindi ogni 4 colpi andrà ad applicare di fatto Per fortuna Odds è veloce a colpire E quindi è tanta robetta Per quanto riguarda invece l'abilità Elementale di Child Di fatto seguirà sempre la regola dei 3 colpi Ma avrà un cooldown comunque a parte rispetto agli altri suoi attacchi Hydro Quindi per dire è interessante effettivamente che la parte fisica e la parte ad arco di Child abbiano effettivamente cooldown separati per quanto riguarda l'applicazione dell'elementa Laura E così via ragazzi Cioè ci sono comunque altre regole Può essere che comunque questi cooldown cambino con il tempo Può essere di fatto che ne vengano aggiunti anche ulteriori Anzi sicuramente perché ci saranno nuovi PG Eccetera eccetera Insomma in generale comunque sapete qual è la regola A parte qualche diversità A parte ovviamente qualche personaggio che richiederà magari più colpi per l'applicazione dell'elemento A parte qualcuno che non ha proprio cooldown interno Di fatto la regola è sempre quella Regola dei 3 colpi o dei 2.5 secondi Con qualche ovviamente caso specifico Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto In tanti ci avevate chiesto effettivamente cosa fosse questo cooldown interno E un pochino come funzionasse E a parte casi specifici penso che comunque sia abbastanza chiaro effettivamente in linea generale Come funzioni questo piccolo cooldown interno Ed è anche simpatico effettivamente vederne un po' il funzionamento Di fatto adesso sapete il motivo per il quale non andate ad innestare una relazione ad ogni colpo E quindi non vi farete più questa domanda Grazie ai vostri amici Mapao E ragazzi vi saluto Ricordatevi di tutti i link che vi lasciamo in descrizione come sempre E ragazzi ovviamente veniteci a salutare sui vari social E ricordatevi che su Telegram comunque trovate tutte le build dei vari personaggi Quindi ragazzi andateci Le trovate pure su Discord Andateci Ragazzi a brevissimo Forse sono anche già uscite ma non ne ho idea Comunque usciranno la build di Bal La build di Aloy La build di Sara Eccetera eccetera Quindi sono già pronte Semplicemente a breve faremo uscire video E quindi ragazzi io vi saluto E ci becchiamo al prossimo video Ciao amici